Le pagine di questo piccolo libro sono il frutto di un confronto che abbiamo avuto tra noi riguardo il tema della risurrezione. Ci siamo chiesti, e lo abbiamo fatto da tante prospettive diverse, come oggi parlare di risurrezione, come custodire una spiritualità pasquale, che cosa significa essere di questo mondo ma non del tutto in questo mondo. E la prima cosa che abbiamo notato è che questo è un tempo di miseria del linguaggio, ci sono parole consumate e anche per esempio i presbiteri che hanno preso parte a questo nostro incontro sottolineavano che non è facile nei funerali trovare le parole giuste, un po' perché ci si aspetta che queste parole siano appropriate, specifiche per la persona che non c'è più, perché ci si aspetta anche che queste parole siano di consolazione e di sostegno a chi invece rimane, ma la difficoltà viene proprio dal fatto che non c'è più un tessuto condiviso e queste parole risuonano come qualcosa di vecchio, di stanco, di logoro e di consumato. Non si tratta però di cambiare le parole ma di risvegliare quelle che già abbiamo. Il cristianesimo ha una sapienza della Pasqua, una sapienza della risurrezione. Questa sapienza però ha bisogno davvero di una nuova incarnazione nella nostra storia. E chi ci aiuta a fare questo lavoro? Queste pagine hanno proprio lo scopo di darci una mano in questo compito difficile e abbiamo proprio subito messo a fuoco che le parole necessarie non sono già fatte, sono da trovare nella storia e se noi prendiamo i Vangeli ci accorgiamo subito che il risorto non è venuto a spiegarci che cosa c'è dall'altra parte. Il risorto non è venuto a parlarci di inferno, di paradiso o di un tempo intermedio che ci verrebbe ancora dato per tornare alla radice di quello che siamo, alla fioritura della vita. Il risorto che cosa fa? Parla e fa gesti e si posiziona in una maniera tale che sembra quasi dirci là dove voi avete visto un fallimento dovete cambiare prospettiva e dovete trovare il modo ed è possibile per rinnovare questa relazione. Sembro finito, sembro sconfitto, sembro scomparso ma ci sono ancora e sono da trovare in altre forme, in uno spazio diverso, in un tempo diverso ma ancora presente. Ecco dunque le parole che stiamo cercando, come si può sperimentare la presenza di qualcosa che sembra sfinito, sembra scomparso, sembra non esserci più eppure è ancora vitale, può ancora respirare una vita, come trovare relazioni nuove anche al di là della morte. E se noi andiamo a riprendere le parole, i gesti, le narrazioni evangeliche che riguardano questo, noi possiamo fare una piccola sintesi che dice questo. La promessa del Vangelo è che nessuna vita andrà perduta. Non solo tutto il bene che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto, ma anche le ferite che abbiamo patito, che abbiamo inferto, hanno ancora una nuova possibilità, possibilità di cura, di perdono, di rigenerazione. E quindi se dovessi sintetizzare davvero in poche parole il senso di queste pagine, direi che il senso è questo annuncio di risurrezione che ci riporta alla vita qui e ora, perché questo annuncio ci dice la tua vita non andrà perduta, soprattutto là dove si è fatta amore, dove si è fatta cura, dove si è fatta giustizia, dove si è fatta perdono. Certamente non è una visione solo armonica, ma c'è anche qualcosa che richiama la nostra responsabilità qui e ora. Un teologo che viene citato nelle pagine, che è Thomas Salick, riprende quel brano in cui il risorto incontra Tommaso. Tocca le ferite, tocca le mie ferite, gli dice Gesù. È un modo per dire, se vuoi ancora scoprirmi in questo mondo, in questa storia, come qualcuno che non è un Messia sconfitto, ma un Messia capace di trasformazione, è toccando le ferite del tuo prossimo che mi ritroverai. E quindi questa promessa pasquale è una promessa anche di grande responsabilità, che ci dà la fiducia e la speranza che il bene, la giustizia e l'amore che abbiamo vissuto non andrà perduto, ma è anche un invito a prenderci la responsabilità della cura dei fratelli e delle sorelle più piccole, più emarginate, che hanno vite considerate sacrificabili e continuamente ferite.